Ciao, eccoci ritornati, un augurio di inizio anno da Monferrato Paesaggi e volevo fare questo video di presentazione di un nuovo tool che abbiamo inserito in Monferrato Paesaggi Allora, abbassa un attimo qua Ok Allora, se andate sul sito Monferrato Paesaggi Abbiamo ritoccato un attimo l'interfaccia della home e qui in fondo, oltre ad aver inserito gli ultimi tweet che mettono l'hashtag Monferrato Paesaggi e anche gli ultimi Instagram di Monferrato Paesaggi Abbiamo aggiunto questo nuovo strumento che permette agli utenti di inserire le proprie foto Vediamo subito come si usa Qui ancora il contest di Naturaltree E niente, iniziamo Abbiamo un breve messaggio Qui dobbiamo inserire la nostra email Io scrivo Lima City Planner Clicchiamo su Continua La richiesta dell'email perché se ad esempio vogliamo richiedere informazioni o comunque sulla foto Noi vi chiediamo prima di tutto l'indirizzo email e poi vi facciamo andare avanti con la procedura Quindi qua adesso dopo l'invio dell'email c'è un tasto per selezionare la vostra email e la vostra fotografia che volete postare Io ho selezionato per esempio una foto che non è recente perché il tempo è un po' più bello di quello di adesso anche se c'è il sole Una volta caricato e che vedete il nome del file qui potete cliccare su Continua La vostra foto viene archiviata nel nostro server Il tempo un attimo di caricamento Ok, l'immagine è stata processata Qua è l'immagine originale qui è un ridimensionamento più o meno centrato Però questo si potrà anche modificare Ok, se vedete l'immagine qua visualizzate bene Possiamo fare su Continua Questa procedura è possibile fare anche da tablet e da smartphone Quindi, inviata l'immagine Adesso vi chiede di posizionare la vostra foto Ad esempio se noi clicchiamo sulla mappa La nostra foto viene qua e in questo esatto punto sarebbe da dove è stata scattata la foto Ovviamente non è qua, bisogna cercare un po' nella mappa Per cercare nella mappa Potremmo trovare o Se conosciamo bene la zona e ci possiamo Ci riusciamo a orientare su una mappa C'è una foto salitalitare Oppure c'è la possibilità di andare su OpenStreetMap Che in certi punti ha molte più informazioni O anche c'è una vista del suolo Con la morfologia e le varie indicazioni Questi tre modi sono delle opzioni Poi magari vediamo anche di inserire altre mappe Però queste dovrebbero essere a sufficienza Il secondo modo è cercare direttamente qua Tramite questo pulsante di ricerca Questo casello di ricerca Noi possiamo scrivere tipo San Giorgio Monferrato Lui trova San Giorgio in Monferrato Ci possiamo avvicinare e vedere dove posizionare la foto Io preferisco OpenStreetMap Qui possiamo trovare il nome del comune Possiamo anche cercare la piazza o il luogo Se conosciamo esattamente il luogo Che era Piazza Francesco Piazza Francesco Possiamo provare a vedere se nella ricerca Era registrata bene l'indirizzo E quindi possiamo trovarlo Quindi prima piazza San Giorgio Quindi il nome della via o della piazza E poi virgola il nome del comune Vediamo se lo trova Allora io sono già venuto qua Ok find No non lo trova E quindi ci dobbiamo Comunque vedere Possiamo utilizzare comunque solo San Giorgio e Monferrato E poi orientarci per trovare esattamente il luogo Io so che la mia foto è in questa piazza Rattiviamo un attimo il satellite di questa chiesa La foto l'ho scattata esattamente qua E a questo punto possiamo inserire la nostra fotografia Clicchiamo su continua Se eventualmente abbiamo sbagliato il luogo Riclicchiamo tranquillamente su un altro punto Facciamo continua L'immagine viene processata con le coordinate Qui possiamo vedere che è esattamente nel punto che avevamo scelto E adesso dobbiamo finire la procedura completando con le nostre informazioni Quindi io sono Pier Giorgio Il mio profilo Se voglio segnarlo posso segnare o il mio sito internet O comunque il mio account di Facebook Basta andare su Facebook Cliccare sul proprio profilo Un attimo Oggi ho qualche problema di connessione con la rete Ok Andate sul Qui a sinistra di Facebook Dovreste trovare Il vostro Indirizzo Un secondo Quindi cliccate Io su Facebook sono Simon Red Qui sopra copiate esattamente tutto L'URL Copy Lo inserisco qua al posto del mio profilo Tasto destro Incolla Il titolo della fotografia Questa qua è Scegliamo un titolo Possiamo scrivere anche Chiesa Parrocchiale Di San San Giorgio E Dobbiamo scegliere Una Tipologia Di Licenza Magari Vi spiego meglio In un secondo Comunque In un articolo Perché attribuire o meno Questa licenza Queste qua sono le licenze Che si possono Utilizzare Se si scelgono Una delle prime due È una licenza Che permette di utilizzare Questa foto liberamente Comunque Sempre citando Il vostro nome E il vostro autore Queste licenze Hanno più limitazioni E Sono denominate Proprio Questa licenza Non è Esatta Per le fotografie Per i media Per in generale Però Non appartiene A quelle Della Free culture Quindi faccio Attribuzione Condividio Allo stesso modo Che è quella Che preferisco Opera propria Si Perché ho scattato Io la fotografia E qua Seleziono Una categoria In questo caso È un edificio religioso Ed è tutto qua Adesso faccio Invia il post Inserimento completato Questo è tutto Quello che bisogna fare Se provate Esattamente Questa procedura È molto Molto veloce In ogni caso Se ci dovesse essere Qualsiasi problema Contattatemi pure Ha sempre L'indirizzo E-mail Monferrato Paesaggio Comunque Sul gruppo Di Facebook Quindi Ricapitolando Come si fa Questa procedura Si va Si va su Monferrato Paesaggi Qui in fondo C'è un grosso Pulsante Per aggiungere La tua foto E qui Iniziate a Inserire le vostre foto Con le coordinate Inserire le foto Con le coordinate È molto importante Perché il nostro Sito Si basa Molto Su L'inserimento Di punti di interesse Specifici Con la loro foto Con le loro Informazioni Quindi Vi invito Tutti Ad inserire I vostri contenuti Grazie E alla prossima